Musica Continuate con orgoglio, con passione a vestire e insendire la nostra amministrazione. Abbiamo iniziato a portare aiuti, ma più che altro è portare una parola di solidarietà. Noi ci siamo, eccoci. Questa è la cosa più importante. Ringrazio per le sue parole il nostro Presidente, il Capo della Polizia. È molto significativo che della vostra associazione possano far parte anche comuni cittadini che, pur non essendo stati membri della Polizia, ne assumono i valori e l'impegno. Costituite così come una grande famiglia, una famiglia aperta a tutti coloro che vogliono impegnarsi per il bene comune a partire dai vostri principi. Una famiglia che vorrebbe coinvolgere e accogliere ogni cittadino per diffondere una cultura della legalità, del rispetto e della sicurezza. Quando vengono a mancare la legalità e la sicurezza, sempre sono i più deboli, i primi ad essere danneggiati. Quando mettiamo in pratica la carità, essa cambia il mondo e la storia, anche se non ci accorgiamo subito dei suoi effetti. Questo è il nostro obiettivo e questo è quanto contribuite a fare come Associazione Nazionale della Polizia di Stato ogni volta che, sull'esempio del vostro Patrono, San Michele Arcangelo, vi opponete a tutto ciò che ferisce o distrugge l'uomo. Nel salutarvi vi ringrazio per l'opera che svolgete con tanta dedizione e chiedendo la vostra preghiera per me, invoco sulla vostra associazione e tutti i suoi membri la benedizione e la protezione di Dio. Grazie. Grazie.